Allora, signore e signori, questa sede io vi voglio presentare, è la prima volta che viene qui. Lui nasce nel 1963, artisticamente parlando, nel 1976. Si fa strada partecipando a Puccinella d'Oro, che ottiene il secondo posto. Inizia con feste vari di vario genere, si propone sempre con tanta innovazione. Signore e signori, ve lo voglio presentare subito, Toni Giazzetta! Eccomo qui, lui è una persona, buonasera Toni, è una persona veramente molto umile, dolcissima. Questa sera ci presenta Vieni Man Suona, di Sergio Bruni, e scapricciatello, signore e signori, Toni Giazzetta! Vieni Man Suona 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 Amore mio, serenna pari pepe, o desideri a me, da male l'amore. Mia voglia sono a te, o desideri a me, da male l'amore. Mia voglia sono a te, o desideri a me, da male l'amore. Mia voglia sono a te, o desideri a me, da male l'amore. Io voglia sono a te, o desideri a me, da male l'amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.